Il segreto di una striscia di vittoria così lunga nasce dalla Proreco, dalla storia della Proreco. Quando giochi in questo club non puoi non respirare questa mentalità che Eraldo Pizzo e i suoi compagni tanti anni fa hanno per primi inculcato in questa grande squadra. La fortuna di averne fatto parte in questo secondo grande ciclo è data da una proprietà eccezionale che ci ha permesso di avere squadre formidabili ma soprattutto una mentalità formidabile ereditata proprio da Eraldo e dal primo settebello della Proreco. Grazie per la visione!